Oggi vi parlerò di una questione che riguarda Solignano Nuovo e che ha ricadute in ambito urbanistico e di viabilità. Si tratta dell'esecuzione di una nuova strada di accesso al compendio industriale che si trova ai margini di Solignano Nuovo. Una nuova strada di accesso che consentirà di accedere allo stabilimento System e che sboccherà direttamente su via provinciale. È una cosa di grande importanza a mio parere, di grande importanza e credo anche molto sentita dai cittadini perché prevedere delle strutture industriali o grandemente artigianali e con passaggi dislocati in luoghi residenziali è chiaro che crea un qualche disagio se non altro per l'accessibilità e per il traffico dei mezzi pesanti. Quindi ne avranno sicuramente giovamento coloro che vivono nella zona dove ci sono le poste di Solignano, lungo via Piave e finalmente non avranno più dei TIR che passano di lì perché potranno accedere direttamente agli stabilimenti dalla provincia e quindi allevieranno il transito su via Piave soprattutto. Risolviamo così una questione che da lungo tempo attanà gli abitanti di Solignano e che mette anche un po' più in sicurezza per il fatto che di fianco a quello che è la scuola materna Alice cesseranno di transitare dei camion lunghi 24 metri. Tra l'altro è una questione che non costerà praticamente nulla al comune perché saranno completamente spese a carico di system e credo che sia una bella cosa sistemare quella zona con questo accesso autonome.